Sassaiola e lancio di oggetti vari contro le forze dell'ordine ieri notte al cantiere Tav di Chiomonte in Val di Susa, per fortuna nessun ferito. Al capeggio dei Notave, nella zona vicina al cantiere, era previsto un concerto, prima del quale si è tenuta un'assemblea spontanea al termine. Riferisce la questura di Torino a circa 70-80 persone, a maggior parte valligiani, ma anche studenti e alcuni appartenenti all'area anarchica, si sono avvicinati alla zona recintata del cantiere con uno striscione e due fumogeni, circa 20 persone, e si sono poi sganciate da questo primo gruppo, dirigendosi verso il ponte tibetano vicino al fiume. Da qui, nascosti nel bosco e mascherati, hanno cominciato un fitto lancio di biglie di vetro, sassi, petardi e altro contro le forze dell'ordine al di là della recinzione, utilizzando anche fionde fumogeni e puntatori laser. La sassaiola è durata circa un'ora, poi i Notave si sono allontanati. Per fortuna, nessun ferito tra le forze dell'ordine che non hanno fatto ricorso agli idranti né ai lacrimogeni.